pronti pronti sfera senti tu hai messo la macchina tua in doppia fila con la mia puoi venire e spostare la macchina? hai messo la macchina tua a doppia fila con la mia che cazzo dici? hai messo la macchina il mercedes nera mercedes nera non è mio cazzo mercedes nera hai messo tu la macchina lì davanti al mio io devo uscire io devo andare a fare spisa al co diventerai spisa? capisci? ma io ti do il numero del brando pesta chiamare pesta guarda casa perchè io chiamare caratresi eh? chiamare caratresi ho chiamato il brando pesta guarda pesta senza tonno senza scippolo senza tonno no te prendi giro ora prendi giro io ho chiamato gentili sposta la macchina e io devo uscire sono molto gentili però io non sapere come aiutare te sapere come aiutare prendi alza il culo vieni prendi macchina e sposta non è essere in Italia bro mercedes nero capisci? mercedes nero ho lasciato in Italia ah lasciato in Italia adoro vetto